amici ed amiche dell'alta informazione oggi vorrei dedicare lo spazio ad un'associazione meritevole della nostra attenzione soprattutto della nostra gratitudine sto parlando del corpo dei vigili del fuoco in modo particolare del distaccamento di domodossola ebbene come ogni anno ho chiesto ed ottenuto il resoconto di tutti gli interventi fatti e sono veramente tanti che rispondono 24 ore su 24 per 365 giorni al numero di soccorso 115 il 115 ebbene ci sono circa 100 interventi in più rispetto al 2019 infatti in totale nel 2020 il distaccamento dei vigili del fuoco di domodossola ha fatto 808 interventi di questi c'è nel 160 riguardano la categoria degli incendi si va dagli incendi generici al capannone bosco sterpaglie cammino stalla autovetture scantinato o da abitazioni alcuni numeri bosco sterpaglia 68 interventi 34 per camino 14 per abitazioni 6 per quanto riguarda le auto vetture dopodiché abbiamo molti altri interventi per esempio i danni dell'acqua in caso di allagamento che sono stati tra tra danni dell'acqua strutture pericolanti rami e piante pericolanti valanghe frane rimozione ostacoli ben 192 rispetto ai 45 dell'anno precedente i da gli allagamenti sono stati 38 le strutture pericolanti 74 i rami e piante pericolanti 56 valanghe frane 13 rimozione ostacoli 11 poi abbiamo tutta un'altra serie di interventi che vigili del fuoco fanno per esempio per il soccorso a persona sono intervenuti 56 volte per l'assistenza tecnica e pratica 118 ben 20 volte 55 volte per l'apertura porte 16 volte per l'apertura ascensore sono intervenuti ben 31 volte per quanto riguarda gli incidenti strattali sono stati impiegati 9 volte per delle ricerche persone due per un recupero salve salva per quanto riguarda il lavaggio della sede stradale sono intervenuti 11 volte 24 volte sono state chiamate per delle fughe di gas ben 12 per rimozione neve 51 per soccorso animali e poi ci abbiamo vespe calabroni infine ben 154 interventi ecco tutto questo è stato fatto dal comando dei vigili del fuoco di staccamento di domodossola ebbene a loro noi non possiamo che dire grazie grazie non solo il personale dell'alta informazione ma grazie anche da parte di tutti per il lavoro che svolgete con dedizione e sappiamo di poter contare sempre sempre su voi e voi amici ed amiche dell'alta informazione cosa pensate a proposito di questi dati potete come sempre commentarlo ma mai come in questo caso vi chiedo di mettere i like perché sarebbero dei like anche al corpo dei vigili del fuoco che è un che è un corpo indispensabile che viene impiegato nell'ambito degli interventi per la protezione civile non solo per la protezione civile e non solo per la nostra zona benissimo commentatelo sulle nostre pagine facebook su per quanto riguarda l'altra informazione su twitter su instagram sul canale youtube a domani con un altro video dell'altra informazione